Amiche ed amici bianconeri, mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Grazie davvero, commenti, like. Allora, è la volta naturalmente di Juventus-Cagliari, match che si disputerà domenica 6 ottobre alle 12.30 allo stadium, orario infame sicuramente, ma tant'è. Poi ci sarà la pausa nazionale con la National League, quindi avremo modo, come dire, di approfondire alcuni temi, alcuni spunti, eccetera. Il più importante, naturalmente, è quello che da qui, fino alla fine della stagione, probabilmente, non avremo Gleison Bremer, cioè l'uomo che è un po' il simbolo di questo inizio stagione della Juventus, una squadra rocciosa che non ha ancora preso gol in campionato, unica, unica in tutta Europa, e che appunto sarà Orfano del campione brasiliano, sicuramente il miglior centrale difensivo a mani basse della Serie A, e penso anche tra i primi cinque in Europa. Ma la Juventus di Thiago Motta abbiamo imparato a conoscere una squadra che vive molto sul collettivo, sul fatto che la squadra è maggiore dell'assommatoio dei singoli. Sono convinto che Thiago troverà la soluzione a questo sicuramente importante problema. Ci sarà probabilmente più spazio per gente come Cabal, per gente come Danilo, e anzi sono curioso proprio contro la squadra di Nicola, per vedere se farà esperimenti in tal senso. La squadra Sarda sicuramente non è una macchina da guerra, è una squadra che prende molti gol, ne ha già subiti 10, e fa fatica a segnare, nonostante abbia anche comunque un gioco abbastanza propositivo. Per cui mai tenere la guardia bassa, ma naturalmente bisogna assolutamente imporci e guadagnare i tre punti. Saranno fondamentali, secondo me, i tiri da fuori, le ripartenze, e speriamo davvero che Comaners possa sbloccarsi. Ma, ripeto, al netto dell'individualità è una partita che dobbiamo portare assolutamente a casa, per punti che fanno Fieno, Cascina, ma soprattutto Morale. E non serve male non subire gol, ma questo chiaramente è un problema dopo, proprio per il discorso su Brenner, per dar fiducia ai ragazzi che dovranno essere appunto granitici, rocciosi, eccetera, anche senza il campione basiliano. Ma sono tanti gli spunti per il match di domani, ad esempio le scelte a centrocampo, i cosiddetti tre che dovevano partire seconda linea, vale a dire McKennie, Locatelli e Fagioli, stanno davvero conquistando la ribalta della Juventus e di Thiago Motta. McKennie è stato elogiato direttamente in conferenza stampa per come fa bene la fase sia difensiva che offensiva. Ha voluto proprio mostrare quanto sia importante con il terzo gol, che ha fatto con Seissau, grazie a un suo recupero, con una squadra che era ridotta in dieci, per una partita che non dimenticheremo assolutamente, per l'hype, le emozioni e anche la commozione che ci ha dato. Però è una pagina che abbiamo già voltato, seppur felice, anche naturalmente con l'amaro dell'infortunio di Bremen, dove dobbiamo pensare al match di campionato. Vedremo, vedremo quale saranno scelte a centro campo. Vedremo se vorrà dare Emota una possibilità a Douglas Lewis, che ne esce abbastanza malconcio, l'unico insufficiente di quel match. Un calciatore evidentemente pieno di talento e di qualità, ma che è un po' anarchico nel suo modo di interpretare il ruolo e anche un po' lento nelle azioni. Tanta qualità, tanto estro, tanto talento, che sicuramente sono molto apprezzati in Premier League, però con la Juventus che deve correre, che deve sbattere, dove entrambe le fasi devono essere fatte da tutti i calciatori attaccanti compresi, potrebbe essere un problema. Contiamo però che Thiago possa risolverlo. Anche Turam finora si è visto poco, non so se è un problema fisico o davvero la bravura dei tre che ho nominato prima. metto un piace particolarmente e spero davvero che possa trovare spazio, perché ha sia fase difensiva che fase offensiva. Secondo me potrebbe essere un upgrade di Locatelli, chiaramente deve stare bene in condizione. E poi c'è l'attacco. L'attacco dove Dusan Vlaovic è stato il re, il padrone, l'imperatore di Lipsia. Una bella prestazione maiuscola, non solo per i gol bellissimi fatti da centroavanti puro, ma anche per il coraggio, per la dedizione, per la leadership che ha mostrato in campo. Tutte cose che vorremmo vedere in tutte le partite di campionato, anche in partite diciamo meno ai pose, se devo usare questo termine, meno che danno come dire valore al match stesso. Dusan Vlaovic deve essere quello che ci risolve le partite. Assieme a quello che sarà il suo compagno di reparto, il grande e il piccolo, vale a dire con Seisau, la sua prima da titolare con la Juventus. Stato ci sa anche il padre che lo assisterà in tribuna. Questo ragazzo mi piace particolarmente, ha un modo di interpretare il calcio di una volta, all the style, dove conta meno la fisicità ma quanto l'estro, la velocità, il dribbling pazzesco. Ha fatto un gol splendido, incredibile. Io continuo a riguardare i ragazzi di quella partita, tra l'altro, alla Messi. Ora, non è Messi, non sarà mai Messi, ma è un calciatore che può essere utile. Sono un po' più curioso, curioso di vederlo dall'inizio di una partita, perché il portoghese viene dato un po' come, diciamo, classico calciatore subentrante, che può dare il meglio a partita in corso, quando gli altri sono un po' stanti, lui può far valere il suo estro, la sua velocità. Io penso che con Seisau sia un calciatore completo, che possa anche interpretare una partita fin dall'inizio, vista l'assenza di Nico González, se ne va almeno per un mese. Attacco, diciamo, che è nelle spalle di Dusan Blaudic, quello che dovrebbe essere il suo sostituto naturale alle prese di nuovo con l'intervento chirurgico, ma è una situazione assolutamente insostenibile. Penso che nel mercato di gennaio qualche intervento si dovrà fare, annetto che comunque ci sono, diciamo, soluzioni complementari. Vedi, ad esempio, il Diz Falsoneve o Nico González, che adesso è fuori. Io penso che sia più urgente forse un attaccante di scorta che un centrale difensivo, cosa che tra l'altro non è previsto al momento tra i vari esuberi, ciao ciao Ramos, e meno male è così. Altro match per il Diz, che vive un po' di luci ombre, questa sua grossa responsabilità come numero 10 della Juventus. E poi c'è il discorso Copminers, sempre tante luci e tante ombre su questo ragazzo. Ha preso due traverse, un paio di assist li ha già fatti. Speriamo davvero che trovi il gol, anche perché è stato preso proprio per quello. Come dicevo da prima, il tiro da fuori potrebbe essere un'arma in più per questa Juventus. Chiudo questo video con un pensiero veloce su Paul Pogba. Sapete benissimo che è stata ridotta la squalifica al ex, secondo me, fenomeno francese. Due anni e mezzo di stop sono troppi per pensare di poterlo reintegrare in rosa, oltretutto con un costo spropositato dal punto di vista dello stipendio. Sono contento per il ragazzo, sappiamo benissimo che da gennaio del 2025 potrà allenarsi e da marzo potrà partecipare a competizioni ufficiali. Però io dico abbiamo preso ormai una strada diversa, una strada di sostenibilità. Comunque tutti i casini che sono successi in questi due anni sono principalmente colpa sua, vedo intervento, e l'ingenuità sulla questione doping, seppur come si è dimostrata, ma su questo penso che nessuno avesse dubbio, come dire, non volontaria. Sono però, ripeto, contento che possa comunque concludere la sua carriera giocando. Ma adesso abbiamo i nostri ragazzi che dovranno dare il tutto il meglio, anche per Gleso Weber. Fino alla fine, forza Juve, ciao ciao!